Buongiorno a tutti da Stefania Bonomi e ben ritrovati al nostro appuntamento, al primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Come sempre, come tutte le mattine, per prima cosa andiamo a vedere chi si festeggia oggi. Oggi si festeggia San Giovanni Crisostomo, Vescovo. Alla storia è passato con il soprannome di Boccadoro per la meravigliosa capacità di parlare delle cose della fede. San Giovanni Crisostomo nasce nel 349 circa ad Antiochia. Patriarca a Costantinopoli muore esiliato per aver condannato senza paura la corruzione del clero e della corte bizantina. E vediamo, come tutti i giorni, le previsioni del tempo. Questa di stamattina, mercoledì 13 settembre, è una giornata particolarmente calda, ancora più calda delle giornate di ieri e l'altro ieri. Ed infatti il tempo oggi è ancora bello, variabile, con nuvolosità medio-alta in transito, associata a isolati e brevissimi piovaschi. Le temperature, che adesso sono molto alte, andiamo verso un lieve calo. Il mare è poco mosso, il sole oggi è sorto alle 6.43 e tramonterà alle 19.21. Iniziamo la nostra rassegna stampa. Ricordiamo che oggi tantissimi studenti inizieranno, varcheranno i confini delle scuole e quindi è una giornata particolarmente dedicata proprio a questo argomento. Ed infatti partirei subito dal Corriere Adriatico, Scuola, la nuova cittadella. Le novità del primo giorno in Viale Trieste, dopo la Righieri, da oggi anche la Mascarucci e lo Scarabocchio, trasferimento legato all'apertura dei cantieri per la riqualificazione dell'edilizia con i fondi PNRR. Dopodiché abbiamo la fotonotizia, adesso correrà l'accordo con RFI, il cavalcaferrovia è ripartito. Ed ancora, brevi di cronaca, raccolte di firme per il recupero delle zoccolette. Pesaro, Fano, ricatta l'amante con video hard, scatta la trappola. Ed ancora Fano, tenta la fuga con la droga in tasca, preso e arrestato. Si parla ancora dell'alluvione dello scorso anno, ancora a Tronchi sul fiume Nevola, dove è scomparso nostro figlio. Foto di, scusate, notizia di fondo pagina. Il Miralfiore farà parte dei parchi della salute. Pesaro fa da apripista alla sperimentazione e il Comune frena le polemiche sugli incarichi. Entriamo in quello che sono le notizie principali. In primo piano, Mar, che dopo parleremo anche della scuola, un anno passato in vano. Tronchi e detriti sul fiume, se 13 morti non bastano. Questo è il grido di dolore di Tiziano Lucconi, che lo scorso anno nell'alluvione perse il piccolo Mattia. Ancora gravi rischi nel tratto dove nostro figlio è scomparso. Non è concepibile che sia ancora così, dice. E se arrivasse ancora una piena, passiamo alle scuole. Eccola qui. Prima pagina, siamo a Pesaro. A Pesaro, con 350 bimbi in più, l'area di Pesaro, studi, nuovo polo didattico. In Viale Trieste, dopo l'Alighieri, da oggi anche Mascarucce e Scarabocchio. Murgia dichiara servizio di scuola bus già predisposto anche per l'Anna Franca. Si torna in classe nella provincia di Pesaro Urbino. L'avvio dell'anno scolastico 23-24 interessa 40.850 alunni che salgono a 46.069, se si considera anche i bambini della scuola d'infanzia, che hanno già ripreso l'attività, mentre gli insegnanti sfiorano le 5.000 unità, per la precisione 4.959 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'avvio dell'anno scolastico a Pesaro coincide con i 450 bimbi che inizieranno le lezioni in un'altra sede, a causa dei lavori di riqualificazione dei loro pressi. Così i piccoli della primaria Anna Franca di Santa Maria delle Fabrecce, circa 100, da oggi iniziano negli spazi del centro civico di Vismare. I 250 alunni della Mascarucci di via Agostini saranno pronti a trasferirsi alla ex Pesaro Studi, mentre i 100 piccoli della scuola dell'infanzia di via Rigoni saranno alla Mammiani Beach, praticamente l'area nord di Viale Triestre, dove già sorge il complesso privato della nuova scuola, diventa un piccolo polo didattico. Ricordiamo che per l'occasione il sindaco Matteo Ricce, gli assessori Camilla Murgia e Riccardo Pozzi inizieranno il consueto tour augurale e di saluti proprio nella sede di Pesaro Studi. Saranno presenti anche Alessandra Belloni dell'USP e Donatella D'Amico, il nuovo direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Passiamo a Fano. Anche a Fano, 11 scuole più belle e sicure, esordio sereno per le scuole superiori. L'assessore Mascarin ricorda che sono attivi anche i servizi di trasporto e quelli di refezione. Prima campanella dell'anno scolastico 2023-2024, a Fano bambini e ragazzi fino a 13 anni sono circa 5.400, considerando asili nidi, scuole per l'infanzia, primarie e scuole medie. I servizi collegati, spiega l'assessore Samuele Mascarin, sono attivi 11 le linee degli scuola bus, ne usufruiscono 500 tra bambini e bambina. Oltre 2.400 sono invece iscritte alla refezione, circa 300 in più rispetto all'anno scolastico precedente e l'aumento percentuale è di 14 punti. Da oggi vale inoltre l'estensione della fascia desonero ai redditi Ise fino a 5.800 euro. Figli e figlie di 300 famiglie potranno usufruire a titolo gratuito di asilo, refezione e scuola bus. E ci sono anche gli auguri del sindaco Seri che dichiara coltivate la curiosità di scoprire con impegno e costanza. E quindi naturalmente auguri veramente tanti a tutti questi alunni che oggi inizieranno l'anno scolastico. Il primo giorno di scuola è sempre un momento emozionante, sia per chi già la scuola la conosce, quindi stiamo parlando di medie o superiori, ma anche il primo giorno delle scuole elementari. Ed andiamo ancora avanti, procediamo. Bonus bebè, 24.500 euro erogati per altri 98 neonati. La BCC di Fano conferma la sua mission sul territorio. Quasi 10.000 soci, altri 98 neonati beneficiati dal bonus bebè per 24.500 euro erogati quest'anno e 407.000 in totale nei 14 anni in cui ha avuto corso un'iniziativa che ha già premiato 1.628 bambini, 3.300 rappresentanti in rappresentanza di una platea di 9.307 soci. E rimaniamo a Fano ancora. Tenta la fuga con la droga, arrestato, inseguito e catturato, ha cercato di scappare dando un calcio al poliziotto. È stato preso con la droga, ma lui tenta la fuga e molla in calcio ad un agente, è stato arrestato. È un ragazzo di 19 anni, ritenuto al centro di un giro di spaccio nel quartiere di Sant'Orso di Fano. Il giovane non studia e non lavora. Lunedì sera i poliziotti della squadra mobile della questura di Pesaro e del commissariato di Fano lo hanno atteso a rientro i scooter nel suo garage. Lo hanno fermato per un controllo, ma il giovane ha reagito ed è scappato, aggrappandosi alla ringhiera che portava alla strada. Una corsa durata qualche minuto, finché è stato riacciuffato. Durante il percorso aveva mollato il borsello, ma gli agenti lo hanno ritrovato. All'interno c'erano 25 grammi di marijuana suddivise in 11 dosi, già pronte per lo spaccio al dettaglio. Passiamo a Fossombrone. Fossombrone tra 8 anni nasce oggi la città di domani. Il sindaco ha commissionato uno studio per il recupero urbanistico. Stiamo lavorando ad un grande progetto denominato Fossombrone 2031. Esordisce il sindaco Massimo Berloni, che fa il punto a due anni dall'insediamento. Il primo cittadino, sottolinea, abbiamo cercato di rendere più operativi ed efficienti gli uffici comunali per rispondere più tempestivamente alle istanze dei cittadini. Il nostro comune è diventato una sede di lavoro ambita dopo un periodo di defezione e richieste di mobilità verso altri enti. Possiamo contare su un'immagine qualificata del nostro ente molto più efficiente in tutti i suoi comparti. Ed ancora in Valmetauro, ricatta l'amante con video hot e scatta la trappola. Lei racconta tutto ai carabinieri e lo arrestano, quindi è stato condannato. Lei era una relazione clandestina, naturalmente caratterizzata da quelli che sono i soliti messaggi e i ricatti. Ieri la sentenza per il processo a un 43enne di San Costanzo, accusato di estorsioni ai danni di una donna fanese e resistenza pubblico ufficiale, un rapporto a sfondo sessuale nato in paese, ma tenuto ovviamente nascosto, perché lei era una donna sposata. Ma una passione bollente, in cui lui l'aveva convinta a mandarle dei messaggi whatsapp un po' intimi, con dei video. Una volta che il rapporto è iniziato a scricchiolare, lui l'ha minacciata di inviare, naturalmente, questi video al marito. La donna però ha trovato il coraggio di agire e non subire questo ricatto. E quindi ieri la sentenza con l'uomo difeso dall'avvocato Emanuele Fierimonte del Foro di Roma. Il giudice l'ha condannato, scusate, il 43enne, a un anno e otto mesi di reclusione. E restiamo sempre in Valcesano, chalet prefabbricato in dono, ai volontari della FA di Bruno. Il presidente Vitali, grato alla famiglia Gasperini, siamo più attrezzati, dichiara. Siamo a Marotta, un regalo di Natale in anticipo a quello che la famiglia Gasperini del ristorantino Prima Secca ha deciso di fare all'Associazione di Protezione Civile FA di Bruno di Marotta Mondolfo. L'associazione, già in passato, ha potuto ricevere in dono mezzi e materiali utili proprio per operare sul territorio cittadino. in questo caso si tratta di un chalet prefabbricato che è stato messo a disposizione dei volontari guidati dal presidente Enrico Vitali che potranno così utilizzare questa struttura per tutte le evenienze. Ci spostiamo a Senigallia, siamo sempre, vi ricordo, sul Corriere Adriatico. Ci spostiamo a Senigallia, in dieci anni persi 671 alunni e 12 classi, scuole dell'infanzia, le più bersagliate. Torna a suonare anche a Senigallia, come in tutti gli altri posti, la campanella, ma oggi sui banchi ci sono sempre meno studenti. Nell'anno scolastico 2014-2015 gli iscritti alle scuole comunali erano 4.325, oggi sono 3.654. In dieci anni sono diminuiti di 671 unità e si sono perse 12 classi passati da 205 alle attuali 193. Il calo più significativo si registra nelle scuole dell'infanzia, andamento che non ferma gli investimenti del Comune. Siamo consapevoli di questi cali, spiega il Sindaco Massimo Olivetti, ma si tratta tuttavia di un trend nazionale che vede anche la nostra città in linea. Ed ancora sempre a Senigallia, lutto, le lacrime per Cesarini, la storica maestra, Carla ha cresciuto intere generazioni di senigallesi alla primaria Pascoli e il mondo della scuola oggi è in lutto per la scomparsa della loro maestra. Aveva 65 anni compiuti lo scorso 1 settembre. Aveva lavorato per tanti anni alla scuola primaria Pascoli in centro scorico insediando ad intere generazioni di senigallesi. Ed ancora restiamo un'altra notizia di cronaca. La svolta, poi lo scontro tra auto e scooter, shock sulla complanare grave, un quarantenne. È successo un grave incidente ieri mattina in complanare dove è rimasto ferito un quarantenne che viaggiava in scooter. È stato soccorso in codice rosso dall'eliambulanza atterrata nella rotatoria allo svincolo di Viale Berardinelli. È successo verso le 12.20 lo scontro nella bretella nord della complanare appunto tra questo scooter di grossa cilindrate e un'auto che procedeva in direzione nord. Quando la macchina svoltata a sinistra per uscire è avvenuto il violento impatto. Ad avere la peggio purtroppo è stato il quarantenne soccorso prima dai sanitari del 118 poi dal personale dell'eliambulanza atterrata poca distanza dopo aver calato il medico con il verricello. E chiudiamo la nostra prima rassegna stampa del Corriere Adriatico e vediamo invece quali sono le notizie del resto del Carlino. Il resto del Carlino parla subito del dramma per una cinquantenne ai bagni miramari in rianimazione stramazza e spiaggia sotto gli occhi del figlio e marito mentre giocava a pallavolo. Purtroppo a me dispiace ma ogni tanto si continuano a leggere di questi malori improvvisi sono tanti ultimamente in rassegna stampa ne sto sentendo veramente tanti e sono un po' inspiegabili e che lasciano veramente senza parole cinquant'anni. Ed ancora titolo di testa prime scuole fatte con i fondi PNRR gli esempi a Monbraccio e Urbagna oggi campanelle per 46.000 studenti la piaga del precariato ed ancora la fotonotizia l'estate tira dritto ombrelloni aperti almeno fino a domenica Misano e la Biennelli Wick hanno chiaramente aiutato ed ancora fano calcio in faccia al poliziotto giovane pusher arrestato stessa notizia che abbiamo già trovato sul Corriere Adriatico sempre brevi di cronaca all'allarme di Coldiretti la Peronospora una minaccia per la vendemmia ed era successo ancora in epoca covid le sputa contro per il parcheggio alla sbarra un'infermiera ed ancora notizie sportive serie C nuove direttore generale la vis sceglie serraiocco e al basket la famiglia si allarga utensil nel consorzio altro socio per l'AVL ma entriamo nelle notizie campanella per oltre 46.000 studenti ma il 30% dei docenti purtroppo è precario penalizzati gli studenti soprattutto quelli disabili le proteste della CGL che dà i numeri nell'infanzia uno solo di ruolo ce ne vorrebbero almeno 100 idem sul fronte della primaria stabilizzati in 16 contro gli oltre 200 presi come supplenti arriverà oggi in città il nuovo direttore dell'ufficio scolastico della regione ed ancora Misano e Benelli Wick l'estate si è allungata fine domenica gli ombrelloni sono aperti il punto sulla stagione è stato fatto con Sabina Cardinali di CNA Balneare le due manifestazioni hanno portato molti turisti di alto livello tra gli stranieri meno tedeschi e americani il meteo non al top inoltre tra le notte positive la ruota e la pizzata hanno dato un po' di brio a tutto il litorale nuovo incontro per la Bolkestein in effetti queste bellissime giornate portano a godersi ancora la stagione estiva quindi anche se si arriva a fine settembre e anche i primi di ottobre se il tempo regge con queste belle giornate effettivamente è un grandissimo piacere ed ancora i fatti di cronaca dramme spiaggia stavo giocando a volley donna stramazza al suolo cuore fermo corsa disperata per rianimarla prima i bagnanti poi i sanitari è successo ai bagni miramari tutti sotto gli occhi del figlio e del marito purtroppo la tenacia di tutti ha permesso di strappare alla morte una cinquantenne pesarelle la donna è ora ricoverata in rianimazione è stata ricoverata prima in emodinamica poi in rianimazione la protesi purtroppo è ancora riservata Fano siamo nelle pagine di Fano calcio in faccia alla gente pusher in manette lo abbiamo già ampiamente visto sul corriere adriatico superiori al via ma mancano palestre e aule il polo 3 aspetta la fine dei lavori a Palazzo Petrucci il Nolfi la ricostruzione dell'ex Carducci e il Torelli non ha spazi invece per l'educazione fisica servono più spazi nelle scuole superiore fanesi per le palestre aule e laboratorie la preoccupazione comune ai tre dirigenti scolastici dei liceo Nolfi e Torelli e del polo 3 che parlano di sofferenza condivisa la dirigente del polo 3 Eleonora Ugello attende di poter disporre dell'ala di Palazzo Petrucci in fase di ristrutturazione per avere gli spazi didattici adeguati all'offerta formativa i lavori sono in carico alla provincia sono iniziati durante l'estate e una volta terminati offriranno alla scuola sia aule che laboratori ed ancora schianto sull'orcianese è un articolo di cui abbiamo parlato tantissimo il famoso tunisino che scappa e effettivamente era risultato positivo ai test si era pensato appunto che fosse proprio fuggito per non essere sottoposto ai test ma l'uomo alla guida della BMW si è scontrata contro l'auto della vittima aveva un tasso alcolico oltre i limitri risultato anche positivo agli oppiacei ma va appurato se questo può essere attribuito o meno ai farmaci antidolorifici che sono stati somministrati dopo lo scontro invece purtroppo oggi pomeriggio c'è l'ultimo saluto l'addio a Nilvana sperandio sattantuananni che appunto purtroppo non ce l'ha fatta nella chiesa di San Giuseppe al Porto e qui c'è un po' un dramma ossia lasciati a piedi il primo giorno di scuola ira dei genitori scriviamo al prefetto stiamo parlando di Valmetauro l'autobus non si ferma proteste tra le famiglie di alcuni studenti che hanno già iniziato le lezioni le scuse di Adriabus potenziate alcune tratte le corse in provincia passeranno da 1450 a 2271 le lamentele i mezzi erano già al limite della capienza quindi gli autisti non si sono fermati purtroppo troppe persone dentro a uno stesso autobus un po' anche per le normative igienico-sanitarie non ci possono stare ma giustamente i genitori dicono ma noi paghiamo abbonamenti salati ed infatti proprio stamattina su Facebook un signore di Cucurano dice mio figlio 15 anni al primo giorno di scuola non è stato caricato dal pullman di Adriabus alla fine nonostante abbia un abbonamento annuale regolarmente rinnovato abbiamo dovuto accompagnarlo noi genitori passiamo ad Urbino alla scuola del libro è arrivata Lucia Nonni la scuola del libro ha una nuova dirigente scolastico ha preso servizio il primo settembre Lucia Nonni Urbinate classe 1980 laureate lettere e filosofia insegnante per vent'anni e poi dal 2019 preside a Pesaro e Milano nel suo curriculum anche una pubblicazione sulla violenza al femminile inoltre si conclude oggi Urbino On Food appuntamento al monte da Raffaello si ricorda che stasera si conclude la settima edizione di Urbino On Food le camminate del mercoledì organizzate da Proloco e Club Alpino Italiano appuntamento alle 21 al monumento a Raffaello per un anello che toccherà i tanti vicoli e le vie del centro con l'apertura straordinaria di Palazzo Battiferri grazie alla collaborazione dell'Ateneo che patrocina l'evento assieme al Comune poi l'appuntamento prossimo sarà per il 24 di giugno ed ancora Urbino Montefelto aria di rivolta contro le strisce blu commercianti e professionisti preoccupati per l'andamento delle attività nel centro storico di Cagli passiamo a una notizia che riguarda gli spettacoli un vero e potente rombo di tuono con la musica della moto siamo arrivati alla conclusione il Fuori Festival rassegna concertistica nata attorno a Ruff Gran Finale ci sarà domenica la musica della moto chiuderà con il rombo del tuono l'edizione 2023 di Fuori Festival la rassegna concertistica che si snoda attorno a Rossini Opera Festival e all'estate pesarese si ricorda che venerdì 15 alle 18 è in programma il concerto in via del Vallato 25 a Pesaro e con questa notizia riguardo agli spettacoli io chiudo qui la rassegna stampa di oggi rinnovo gli auguri agli alunni che oggi hanno iniziato il loro primo giorno di scuola ma soprattutto anche a tutti i genitori che sarà anche per loro una bella emozione naturalmente vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 21.30 e vi ringrazio ancora di essere stati con noi buona giornata